Importante intervento presso il reparto covid dell'ospedale di Agropoli, un paziente di anni 67 con patologie pregresse, ricoverato prima deboli malattie infettive nel reparto covid ad inizio maggio e trasferito poi il 12 maggio in subintensiva presso il covid hospital di Agropoli per il peggioramento delle condizioni respiratorie in seguito al riscontro della positività al virus, è stato intubato lo scorso 16 maggio e tracheotomizzato il 22 maggio dalla dottoressa Rosa Lampasona responsabile del reparto covid. L'uomo risultato negativo al covid il 9 giugno 2021 è stato poi trasferito il 10 giugno presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Eboli in buone condizioni cliniche e respiratorie, sveglio, cosciente e collaborante, un intervento importante eseguito con grande professionalità, unico nel suo genere presso la struttura in questi lunghi mesi. La tracheotomia è una delicata manovra chirurgica eseguita per costruire una comunicazione respiratoria diretta e reversibile tra l'ambiente esterno ed il lume tracheale. Tale passaggio, creato praticando un'incisione di cute e parete tracheale, è reso possibile attraverso l'inserimento di una speciale cannula tracheale. Quando si fa la tracheotomia nei casi covid? La tracheotomia nei soggetti con infezione da coronavirus viene quindi eseguita come estrema razio nei casi più gravi di insufficienza respiratoria, che hanno già necessità di essere ventilati meccanicamente in terapia intensiva. Un lavoro dunque senza sosta da parte di medici, infermieri, personale osso, lungo otto mesi da quando ad ottobre, il 27, si decise per l'apertura del covid hospital. Tanti cittadini dell'intero comprensorio cilentano e non solo, che hanno avuto necessità, purtroppo, di un ricovero urgente presso i reparti di terapia intensiva e subintensiva. Fino ad oggi sono stati 150 i ricoveri effettuati presso i reparti diretti dalla dottoressa Rosa Lampasona. Attualmente sono presenti all'interno della struttura sette pazienti, sei in terapia subintensiva e uno in terapia intensiva perché intubato. La struttura agropolese garantirà ancora sul territorio, insieme a quella di Scafati, l'emergenza covid-19.